buonasera amici cari e benvenuti alla decima puntata di economia evangelo quest'oggi parleremo di aborto sono in diretta sono in questo momento da solo e niente allora come prima cosa cercherò se riesco e mi scuso per qualche momento di condividere la diretta esatto mi sono trovato e mi condivido sul mio profilo e mi condivido anche su una pagina che io trovo molto interessante che è cultura civismo e comunità perché mi piacerebbe molto che questo argomento che è un argomento molto spinoso buonasera Luca grazie venga ascoltato anche da amici che non sono necessariamente di fede cattolica ma che hanno a cuore la creazione della comunità e il benessere della popolazione quindi lasciate un secondo che faccio un'altra condivisione allora quindi condividi 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 in un gruppo cultura civismo e comunità vi invito tutti quanti ad andare a vedere questa pagina gestita da un amico e propone degli articoli molto interessanti articoli che hanno contribuito alla mia formazione e che hanno buonasera Maria Verità e che hanno condivido che hanno contribuito a generare il pensiero che io sto cercando di comunicare con voi ciao Irene benvenuta allora prima di parlare dell'argomento è molto importante che io vi racconti quello che so di ciò che è successo nelle ultime settimane è fondamentale che ognuno di voi e di noi faccia da megafono per far girare la voce semplicemente perché i giornali non sono più un buon supporto per avere le informazioni e le informazioni si hanno dagli amici ogni amico ha una sua credibilità ha delle sue idee è una fonte però già che noi abbiamo amici che ci credono e che ci vogliono bene dobbiamo fare in modo che loro sappiano le stesse cose che sappiamo noi quindi voglio raccontarvi buonasera Giovanni grazie quello che è successo in questi ultimi tempi sono state due settimane abbastanza intense la settimana scorsa non ci siamo visti perché era mercoledì delle ceneri ma in realtà la società è stata attaccata da tutti i lati allora c'è stato due domeniche fa l'attacco ai medici obiettori che ha generato questa trasmissione e di cui parleremo più approfonditamente più tardi poi c'è stata tutta la questione di DJ Fabo un ragazzo che è stato portato in Svizzera dove è stato sottoposto ad un processo di suicidio assistito io sono una persona semplice e quindi mi viene da dire che DJ Fabo è stato ammazzato in Svizzera tutti staranno a sottilizzare sì ma voleva sì ma non voleva io vi dico che prima era vivo e dopo era morto mi avvicino perché così magari sentite Giovanni fammi sapere se l'audio va bene quindi se uno prima è vivo e dopo è morto e non si è ucciso da solo è stato ucciso e questo è un altro elemento da aggiungere è che il fatto che quando un ragazzo ha subito un incidente tanto grave per cui diventa paraplegico e cieco secondo me che non sono nessuno chiaramente però avrò diritto ad avere un'opinione chi gli si viene a fianco e gli dice ma lo sai che c'è una soluzione per smettere di soffrire tu vai da questi che ti uccidono e tu non soffri più ecco secondo me questa persona è colpevole di omicidio io personalmente ho dell'idea che a DJ Fabo andasse fatto il funerale so che ai suicidi la chiesa non deve fare i funerali ecco io non ritengo che quel ragazzo sia suicida perché quando uno in quelle condizioni è lasciato da solo e gli si presenta una persona che fa il lucignolo della situazione e lo porta in un paese dei balocchi dove invece di diventare un asino diventi un morto quel lucignolo della situazione è un assassino di quelli più schifosi che non tirano direttamente il grilletto io avevo visto la prima puntata di Games of Thrones che tra le tante sciocchezze però aveva un concetto che mi era piaciuto molto il re diceva al figlio devi assistere a questa esecuzione perché sarai re e nella nostra casata chi dà una sentenza di morte la esegue in modo tale che non fai le cose facilmente ecco il signore che ha portato in Svizzera DJ Fabo non ha eseguito direttamente ha fatto eseguire e ha fatto guadagnare una società privata e ha fatto morire un ragazzo e non non ha neanche la dignità di avere fatto l'atto ed averlo capito precisamente Mario Di Nolfi alla luce di questa situazione ha pubblicato un articolo che diceva almeno i nazisti li uccidevano gratis facendo riferimento che l'associazione a cui si è rivolto DJ Fabo si è fatta pagare 18.000 euro per ucciderlo allora bisogna dire una serie di cose che dobbiamo avere tutti ben presente e far presente ai nostri amici DJ Fabo non era malato era un disabile quindi DJ Fabo non ha ricevuto l'eutanasia perché l'eutanasia ce l'hanno i malati terminali DJ Fabo è stato ha ceduto a un suicidio assistito che vabbè in pratica è un omicidio cioè sono questi giochi giochi di parole alla fine uno se si suicida si ammazza da solo se gli dai assistenza lo ammazzi tu quindi in pratica Mario Adinolfi ha fatto riferimento a un'attività fatta da Hitler prima dei campi di concentramento che è stata un'attività di soppressione dei degli handicappati giustificata dal fatto che gli handicappati costavano un tot di marchi ogni giorno buonasera Anna e quindi ucciderli avrebbe fatto risparmiare il Reich e permesso di usare i soldi per per il welfare della Germania perché i soldi non erano infiniti ecco perlomeno era una cosa agghiacciante perché il concetto stesso di uccidere le persone perché comunque ci guadagni dei soldi con cui potrai fare tante belle cose è un concetto che poi ha seguito il suo corso cioè Hitler ha causato la seconda guerra mondiale ha organizzato una serie di genocidi ma era partito dall'uccisione dei disabili ecco eh questi signori delle delle associazioni società svizzere quello che sono ehm si basano di una legge che è più o meno coeva a quella tedesca di Hitler ehm e in più hanno generato un'attività economicamente produttiva perché ti danno tutti i servizi e generano un guadagno di 18.000 euro quindi sono secondo Mario Adinolfi peggiori di Hitler perché Hitler perlomeno non gli portava soldi non gli toglieva soldi di tasca non voleva darglieli vabbè per questa cosa Mario è stato bannato da internet ehm e ha tutta un'altra serie di guai che lui sta affrontando a fronte alta sicuro di quello che sta dicendo ehm e è stato molto interessante gli abbiamo parlato lunedì c'è stata la riunione della dirigenza del popolo della famiglia e ha detto guardate io dei canali per continuare a parlare ne ho tantissimi però da un certo senso mh ne approfittiamo nel senso che da un lato la censura a cui siamo stati soggetti ci ha permesso di parlare su molti giornali e adesso molte persone sanno dell'esistenza di un popolo della famiglia tant'è vero che ehm due domeniche fa eh c'è stata un'intervista alla sette eh nel quale è stata richiesta la mh è stato richiesto di intervistare Mario e dirigenti del popolo della famiglia siamo andati in un po' non ci hanno intervistato per fortuna hanno intervistato solo Mario eh però è interessante che abbiano voluto eh anche dei dirigenti cioè in pratica hanno sfidato Mario a far uscire delle altre persone oltre a lui per far capire che il popolo della famiglia non è un oggetto virtuale costruito dietro Mario Adinolfi che vuole fare carriera è un gruppo di persone ebbene sì noi siamo un gruppo di persone voi che mi ascoltate eh con voi che mi ascoltate in molti casi ci conosciamo di persona e vabbè vi dico per fortuna non ci hanno intervistato perché io mi sono reso conto che non uscivo a prendere le domande dei giornalisti parlano una lingua veramente assurda beh io guardo molto a poca televisione perché ho altro da fare loro utilizzano un linguaggio immaginifico ehm per cui tutto diventa una storia e fanno riferimento a se stessi a delle cose principali hanno fatto una domanda del tipo ma quindi è guerra nei confronti del mondo LGBT voi capite non c'è nessuna guerra noi difendiamo non attacchiamo ma poi una discussione non è una guerra cioè ogni domanda cioè sembra che parlino degli elfi dei nani dei troll non è che vogliono sapere le cose vogliono generare emozioni e fare spettacolo ragazzi mi sono convinto che il giornalismo italiano è veramente un enorme problema cioè è una cosa che si frappone tra noi e la verità dovremmo tutti insieme affrontare questa cosa e vabbè dovremmo affrontare dovremmo affrontare anche un'altra questione che è una proposta di legge aberrante che è stata fatta dalla senatrice Gambaro che ehm vuole attentare clamorosamente alla libertà di parola eh vi invito tutti quanti non ne parlerò stasera ma vi invito tutti quanti ad informarvi eh e se volete farlo potete farlo attraverso anche il sito www.delusidalbambu.org eh nel quale eh condivido una serie di filmati che trovo su youtube nella sezione futuro tv eh troverete aspettate un attimo che ci vado che così ehm eh allora ho ho condiviso un filmato eh abbastanza interessante eh fatta da un avvocato di Genova si chiama Mori eh che spiega diversi elementi di pericolosità di questo decreto eh mh allora eh allora questo c'è uno sul false flag eh Marco Mori sì ehm eh niente dateci un'occhiata perché è veramente interessante come vi dicevo lunedì c'è stata una riunione del direttivo romano in cui Mario ha spinto molto che noi parlassimo molto con voi che creassimo dei cenacoli che invitassimo amici per discutere dei temi del popolo della famiglia temi del popolo della famiglia soprattutto il popolo della famiglia perché ci siamo mossi cosa stiamo facendo cosa vogliamo fare ehm noi vogliamo mettere in piedi una comunicazione orizzontale cioè una comunicazione da amico ad amico quindi formare dei piccoli gruppi e raccontare quello che sta succedendo per quelli di voi che sono di Roma io mi metto a disposizione per incontrarli incontrare un gruppo di amici che mi facciano le domande che mi vogliono fare e io gli darò le risposte che riesco a dare loro sono abbastanza informato sia sul programma che sulla storia del popolo della famiglia e quindi siccome non è possibile farvi avere le informazioni tramite giornali ve le dico direttamente e così vi fate un'opinione su di me sul popolo della famiglia sulla fonte valutate la fonte ciao Giovanni buona giornata buona serata e vi vi fate una vostra idea e se come me siete dell'idea che questo movimento politico eh sia eh veramente una possibile speranza allora potrete darci una mano nelle prossime elezioni che ci saranno è un'occasione unica perché c'è un basso sbarramento perché c'è un proporzionale e possiamo veramente cambiare le cose e lo faremo con la comunicazione orizzontale in quest'ottica io tutti i giorni mi sono messo a condividere con voi cinque minuti di pensieri che servono come spunto per la discussione anche qua ne approfitto delle informazioni che ricevo e vi invito di condividere commentare e discutere con gli amici degli argomenti che propongo ora ehm tra un po' passiamo al tema della della chiacchierata invito tutti coloro che non hanno fatto a condividere il più possibile in più posti possibile questo video cliccare mi piace in modo tale che esso possa essere visto invito anche gli amici che mi guarderanno indifferita di fare la stessa cosa in quanto il video può continuare a girare è un tema molto particolare si parla di aborto ehm un tema doloroso molto doloroso ehm e quindi vale la pena che le mie parole vengano macinate anche dalle vostre avverse opinioni ma comunque pensate perché sta succedendo delle cose molto gravi ehm che noi come uomini dobbiamo o accettare o opporci ignorare è roba da scarafaggi scusate è talmente grave che non puoi non avere un'opinione allora ehm mi scuso con gli amici non cattolici ma in questa trasmissione ehm ci ispiriamo con un brano di Vangelo ehm che è un'ispirazione per noi per noi cattolici ma può essere anche una chiave per capire chi siamo e perché pensiamo in un certo modo ehm ehm per gli amici non cattolici per noi il Vangelo è parola di Dio quindi non è una cosa che noi riusciamo ad ignorare facilmente ehm quello che vi leggerò è il Vangelo di Matteo Matteo 18 ehm versetti 1-10 in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? allora Gesù chiamò a sé un bambino lo pose in mezzo a loro e disse in verità vi dico se non vi inconvertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà più grande nel regno dei cieli e chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio accoglie me chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare guai al mondo per gli scandali è inevitabile che avvengano scandali ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo ciao Guido se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo taglialo e gettalo via da te è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gittato nel fuoco eterno se il tuo occhio ti è occasione di scandalo cavalo e gettalo via da te è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del padre mio che è nei cieli buonasera Raffaele questa è parola di Dio per noi cattolici questa è parola di Dio quindi capirete che noi non riusciamo ad ignorarla con grande disinvoltura e allora cos'è successo due domeniche fa è successo che al San Camillo hanno pensato bene di fare una di fare un concorso riservato a medici obiettori di coscienza è stato detto che era per la clinica che fa interruzioni volontarie della gravidanza e quindi non aveva senso prendere medici obiettori immediatamente questa cosa è stata presa in mano da Zingaretti il fratello dell'attore che fa Montalbano che incidentalmente è anche il presidente della regione Lazio e ha detto che è sacrosanto perché dato che il 78% dei medici sono obiettori c'è il rischio che nel Lazio non si riesca ad abortire e quindi è giusto fare un concorso riservato per i medici non obiettori ed è anche giusto che in caso questi diventano obiettori in meno di due anni fosse assolutamente giusto licenziarli e sostituirli perché non si prende in giro lo Stato lo sapete che all'inizio mi aveva quasi convinto cioè dicevo beh se c'è da fare quello tu devi assumere non è mi sembra logico che tu prendi uno che faccia al lavoro poi però mi sono letto la legge poi però ci ho pensato poi però ha detto quella boiata del 78% di medici obiettori quindi quindi nel Lazio non si riesce ad abortire allora voi sapete che io mi occupo di numeri allora se mi dicono che sono biondo quindi sono intelligente immediatamente io rispondo non c'è correlazione tra le due cose ora il 78% cioè è come dire no le Ferrari sono rosse quindi le macchine rosse sono più veloci degli altri è la man di vernice la Ferrari piace mettere la vernice rossa a parte che molte sono gialle o nero quello che vuoi però la velocità non è data dalla vernice 78% di medici non obiettori di parte che queste percentuali andrebbero studiate un attimino con attenzione però di base nel Lazio non si riesce ad accedere all'interruzione volontaria della gravidanza se non si riesce ad accedere a questo servizio se ci si riesce allora vuol dire che il signor Zingaretti ha raccontato una storia andiamo subito al punto il signor Zingaretti ha raccontato una storia ho pubblicato un articolo sulla croce che ho riportato oggi su delusi dal bambù che mostra chiaramente come dal 2004 praticamente non ci sia più nessuno che deve accedere ad ambulatori e pochissima gente si serve delle case di cura quindi in pratica cosa vuol dire? vuol dire che tutti quanti riescono ad abortire tranquillamente nel pubblico quindi di base i dati dell'ISTAT dicono che le le cliniche destinate all'interruzione volontaria della gravidanza funzionano a pieno regime e non danno nessun problema secondo elemento sono andato a vedere la quantità di aborti la cosa mi sciocca tutte le volte allora mi hanno detto che gli aborti sono scesi sotto i 100.000 l'anno sono tanti sono pochi in statistica non si può dire perché dipende dalla popolazione generale allora ho dato un'occhiata ai nati vivi e quello che è venuto fuori è agghiacciante allora ogni cinque bambini nati vivi un bambino viene abortito guardate questa mano questa mano ogni ogni dito della mia mano è un bambino che nasce ecco a fianco al mio pollice e a fianco al mio mignolo c'è un dito che non vedete perché è stato ucciso prima che nascesse bambini stiamo parlando di bambini non di giocattoli facciamo un altro esempio per farvi capire ipotizzate una classe di trenta bambini ad ognuno di questi bambini viene dato un dado a sei facce lancia ogni bambino lancia questo dado se viene uno arriva un medico non obiettore gli fa una puntura e lo elimina a quel punto la classe non è più di trenta bambini ma è una classe di ventiquattro bambini molto più larga molto più comoda perché sei fantasmi non occupano spazio capite l'entità del fenomeno cinque bambini vivi uno morto erano stati concepiti in sei quindi prima di dire che in italia non si riesce ad abortire e ne vengono eliminati una percentuale così grande e bisognerebbe farsi delle domande ho continuato a farmelo approfondito e ho guardato che in media un medico non obiettore deve svolgere 1,6 operazioni la settimana la durata delle operazioni è di mezz'ora quindi in pratica questo signore deve lavorare una cinquantina di minuti alla settimana questo se come dicono loro un'operazione normale è logico che siccome lo sanno che stanno ammazzando un bambino perché si vede io ho visto delle foto che sono impressionanti e soprattutto ho letto dei libri in cui mostravano che i medici non hanno trovato una discontinuità per per dire convincersi che quello non è un bambino quindi i medici che lo fanno lo fanno perché si uccide però ci vuole poi del tempo per riprenderti allora se quelli che vengono eliminati sono bambini sono d'accordo che 1,6 è tanto se come dicono loro non sono bambini uno deve cioè il carico di lavoro dei medici abortisti è bassissimo tant'è vero che in realtà e lo so che terribile è nata ogni volta che lo scrivo ricontrollo i numeri nella speranza che siano un po' variati e sono piantati su questa cosa i medici abortisti non sono sovraccarichi di lavoro e quindi la situazione quello che diceva il signor Zingaretti è un falso per manipolare un po' di gente e nella fattispecie la cosa che pensa male fa peccato e dice che questo signore doveva qualificarsi perché il PD andava al congresso doveva fare un po' di sceneggiata specialmente perché sarebbe stata solo una sceneggiata perché quando mi sono andato a vedere la legge viene fuori che la legge tutela espressamente l'obiettore di coscienza e quindi nessuno può sognarsi di licenziare un obiettore di coscienza era tutta una sceneggiata però per fare strada nel PD bisogna mostrarsi fortemente abortisti specialmente a sinistra mi colpisce molto fortemente cioè delle persone per bene della sinistra vedono questo aborto come un grande valore spero che ignorino i numeri che noi siamo stati costretti a leggere perché se no non sono persone per bene dipingono delle situazioni che sono particolari e e poi ripetono degli slogan tipo lo slogan che è per la salute della donna e per la liberazione della donna io parlo con persone che curano le donne che hanno abortito e guardate la donna non è aiutata da questo diritto che poi vediamo com'è il diritto e cioè la donna viene ferita fisicamente ma soprattutto psicologicamente e parlato con psicologhe che prendono queste donne che si stanno buttando via perché hanno questo senso di colpa questo senso di morte poi vabbè e ho scoperto anche che le più sfortunate sono convinte ad accedere all'utilizzo della pillola abortiva che è un'esperienza agghiacciante cioè io piangevo dopo aver finito di leggere quell'articolo perché la donna descriveva il fatto che le pillole sono due e che tu prendi la prima e uccidi il feto e a quel punto lo senti morire dentro di te poi prendi la seconda pillola e in pratica generi generi un aborto del feto morto e ma pensate a queste ragazze cioè ma come fate a dirgli che è una cosa tranquilla cioè poi è logico che ste ragazze rimangono scioccate per tutta la vita cioè che ste ragazze rimangono scioccate per tutta la vita e cioè quindi in pratica e diritto della donna proprio non è nel senso diritto di farsi del male diritto di diventare infelici ma allora perché c'è tutta questa eh questa voglia di trasformare in diritto di declamare questo diritto parlano di diritto alla salute e fanno ancora più ridere cioè diritto alla salute è sottoporsi a una cosa che ti danneggia la salute è è l'assurdo e lo stato puro la questione secondo me è che stanno cercando di creare un diritto di coloro che non vogliono prendersi la responsabilità di ciò che è successo in pratica allora tu stai sfruttando una persona o una ragazza sei il suo datore di lavoro oppure sei quello che ha avuto rapporti sessuali non vuoi nessuna responsabilità e quindi hai bisogno che le conseguenze di questo rapporto non non avvengano quindi che lei non si metta in maternità perché ti sparisce una risorsa per un anno non vuoi che nasca il bambino perché oramai col DNA ti incastrano ti trovi un un figlio tra i piedi che tu magari di un rapporto che non è cioè magari tu sei sposato oppure hai altre cose ecco se non fosse legale l'aborto o se fosse seriamente regolato quello di spingere la donna ad abortire sarebbe un omicidio sarebbe come quello che dicevo di DJ Favo tu spingi 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 poi magari la donna lo fa però tu hai la responsabilità diretta ecco che non so avete presente nelle società italiane cosa succede alle ragazze con contratto in somministrazione e rimangono incinte immediatamente il contratto salta allora se la ragazza può risolvere il problema può abortire è legale è un suo diritto se non fosse legale tutta questa bella cosa a cui noi assistiamo in Italia sarebbe omicidio secondo me è omicidio è omicidio della comunità italiana è omicidio della società italiana quindi come sempre i radicali che sono dei liberali radicali hanno fatto gli interessi dei ricchi del capitale più becero del capitale più irresponsabile e hanno spacciato questa cosa come un diritto per i poveri per i poveri ha il diritto di farti derubare ha il diritto di farti stuprare ha il diritto di farti tagliare a fette e di farti ammazzare quando disturbi caspita questi qua ci riescono dobbiamo imparare da loro per la comunicazione per combatterli noi adesso abbiamo due fazioni secondo me nel mondo politico due partiti, due parti il partito della vita e il partito della morte diciamo che per quello che ne so io abbiamo il partito della vita e i partiti della morte e il PD è un partito della morte è un partito che il partito della morte è qualunque partito che trova la morte accettabile pur di fare denaro ecco noi dobbiamo combatterle questo partito in ogni modo e le armi migliori che abbiamo sono la verità l'indignazione e la comunità cioè per prima cosa dobbiamo informare bisogna sapere cos'è sta storia io ragazzi mi scuso perché non sono stato preciso cioè poi anche parlare davanti a questo telefonino non è proprio facilissimo però faccio quello che posso e dovete se mi date retta fate anche voi girare la voce raccogliamo informazioni leggiamo questa legge diciamo che questa legge inizia dicendo lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio perché qua tutti pensano che la legge 194 sia una cosa che dice si può abortire liberamente che bello andiamo avanti le donne hanno diritto alla vita ci sono delle cose scritte e noi dobbiamo intanto dirlo conforta che ci sono delle cose scritte e tra cui tra il fatto che la donna e i consultori assistono la donna in stato di gravidanza informandola sui diritti a lei spettante in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali sanitari assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio la informa sulle modalità idonee attua propone enti locali competenti strutture sociali per salvare la vita ecco e quindi quello che dice questa questo zingaretti il diritto della donna ad abortire e perché cioè che poi che non esiste nel senso non esiste nel senso che il diritto a farsi del male non esiste può essere una catastrofe può essere un fallimento può essere tante cose ma non è un diritto il diritto è il diritto alla felicità no? e l'aborto è una cosa che ti rende infelice per il resto della tua vita cioè purtroppo è così quindi noi dobbiamo contrapporre la verità la verità che sta nei numeri e non nelle quattro cavolate cioè pensate solamente ho sentito un'intervista di un medico come altri medici che vedo qua davanti a me che non credo abbiano fatto il giuramento di Ippocrate perché se dicono ste cavolate come quelle che leggo che diceva quello che noi togliamo via è solamente un grumo di cellule allora ehm per cioè come per assolversi no? chiaramente era uno di questi lici per l'aborto ora cos'è un grumo di cellule? cioè noi la verità possiamo anche andare da fuori andandogli a vedere i loro begli slogan cioè io dico sei un medico spiegami che cos'è un grumo di cellule e ehm c'è un'esercenza ma l'hai studiato cioè io quel po' che so di anatomia l'ho studiato al liceo ehm ecco infatti il medico appena ci ha appena confermato che il giuramento di Ippocrate non si fa più ehm lui è evoluto è un personaggio evoluto abbiamo qua dei personaggioni questa sera vabbè è buono perché vuol dire avere anche dei non ehm ehm come si dice mh avere anche ehm dei non credenti può essere una cosa positiva che ehm allargerà il discorso e quindi abbiamo un altro che ci può spiegare perché un embrione fecondato è un grumo di cellule e cos'è un grumo di cellule? così ci innalzeranno e magari noi capiremo che non sono bambini e non parlare senza parlare di religione parlando di scienza chiaramente non cioè ci devono spiegare qual è la discontinuità che avviene a novanta giorni dalla fecondazione cosa cambia? io ho studiato un po' e ho trovato che i novanta giorni ehm erano stati ehm concepiti ai tempi dei greci perché sostanzialmente ehm la donna che prendeva bevande abortive ehm prima dei novanta giorni non poteva essere accusata di aver danneggiato il marito togliendogli la prole ehm perché ai tempi togliere un figlio era considerato un danno al marito quindi si è portato perché sostanzialmente diceva che nei primi novanta giorni non se ne potevano accorgere poi quando hanno capito qualcosa di più sugli embrioni intorno all'ottocento hanno capito che il cambio il salto quantico si ha quando l'embrione è fecondato prima era una cosa e dopo è diventata tutta un'altra cosa in pratica il è un po' come dire l'embrione fecondato ha vinto la lotteria nel momento in cui hai vinto la lotteria hai un altro conto in banca ecco l'embrione fecondato prima due cellule cioè uno spermatozoa e un ovulo sono due cose destinate a a morire comunque nel momento in cui viene fecondato io riesco a riconoscere una riesco a riconoscere un salto quantico prima erano due cose separate era una cosa nuova e a novanta giorni che succede premesso che ho visto foto di poi di bambini che sono stati eliminati poi tra l'altro eh possono essere eliminati anche più avanti eh utilizzando dei falsi certificati medici o medici compiacenti ehm però vabbè io mi aspetto che me lo spieghino così possiamo affrontare me lo spieghino scientificamente eh non stando a rompere le scatole cercando di venire a parlare di religione eh parlino di scienza eh perché in realtà eh noi viviamo in uno stato laico e quindi in uno stato laico bisogna parlare con la ragione di scienza io dico con la mia ragione non riesco a capire cosa cambia e quindi se non riesco a capire cosa cambia io ti dico lì c'era un bambino e tu l'hai ammazzato e quando vedo che ammazzano ehm un bambino su sei no? non riesco a credere quando mi dicono che l'aborto è poco effettuato in Italia eh perché nel momento in cui c'è una legge che dice che le regioni stanno facendo tutto il possibile per convincere le donne per togliere le donne dalle condizioni che le portano ad abortire e vengono uccisi eh viene ucciso un bambino su sei diciamo che non sono molto efficienti queste regioni nel tentativo di proteggere eh queste donne no probabilmente è logico che il fatto che la cosa che ti toglie meno dalle cioè ti dà meno inconvenienze è fare l'operazione alla donna e buttarla via è molto più pratico stessa storia di DJ Fabo stagli vicini pesava no? farlo fuori poi figurati se gli fanno pure pagare il conto e anche alle donne fanno pagare il conto perché credete che poi ehm lo Stato le segua nei disagi psicologici che hanno no? se le pagano tutto loro per non parlare delle problematiche che hanno ecco e io sto parlando da laico ehm sto parlando di una cosa pratica sto parlando di persona indignata dalla mattanza e da persona che ritiene eh che i presidenti delle regioni invece di fare i ehm la cosa i concorsi finti concorsi per non obiettori che non possono fare dovrebbero dormire male la notte nel momento in cui una cosa che sotto la loro responsabilità è così inefficiente come la prevenzione dell'aborto eh e dovrebbero rimboccarsi le maniche e trovare il modo di salvare persone perché eh se tu vai e occupi un po' una carica dove quello che la occupa deve salvare persone e non lo fai tu sei colpevole delle persone che non hai salvato se non vuoi essere colpevole lasci il posto e ci fai venire qualche un altro che abbassi queste statistiche perché un bambino ucciso ogni sei quindi un bambino ucciso ogni cinque vivi è veramente troppo saromatto ma io lo sottoscrivo è troppo e dobbiamo dirlo tra l'altro degli amici eh fra due eh venerdì quindi venerdì diciassette marzo andranno davanti al San Camillo alle dodici eh per manifestare il loro appoggio ai medici obiettori e eh la loro protesta nei confronti di questa porcata eh nonché eh di tutta la eh macchinazione che è stata fatta eh eh io sarò al lavoro in quel momento però ci sono altri amici che ci possono andare eh faremo altra eh eh faremo anche altre operazioni tra l'altro noi lavoreremo per diffondere le informazioni eh sul sito www delusi dal bambù per esempio ho pubblicato l'articolo dove c'è una tabellina che mostra come il fatto tutte le statistiche che ci stanno presentando sulle mammane che uccidono cinquantamila bambini l'anno è fuffa clamorosa cioè ci raccontano delle storie poi beh è forte no perché ti dicono le statistiche mostrano che gli aborti illegali sono ventimila l'anno e tu dici caspita eh abbiamo degli statistici che sono degli investigatori cioè poi mi spieghi se questi ventimila eh cos'hanno? hai intervistato le mammane? fanno le telefonate alle mammane? poi vabbè vai a vedere i dati statistici che vengono pubblicati dall'istat e scopri che è una cavolata cioè non è semplicemente così è falso perché non riesci a spiegarti eh perché uno deve andare dalla mammana quando invece potrebbe andare in una clinica non credo che le mammane ehm ti facciano i prezzi più bassi con quello che rischiano eh in genere se uno delinque eh vuole il suo bel tornaconto anche molti di quelli che riescono a non delinquere perché riescono a farsi le leggi che gli parino la schiena quindi ehm ci sarà manifestazioni e l'evento comunque che più mi sta a cuore è che ragazzi dobbiamo ricreare le comunità le comunità di persone che sentano la sconfitta che avviene ad ogni aborto ehm dobbiamo ehm quindi ehm rimettere ricreare cioè smettere di essere degli atemi isolati ehm nel quale la disperazione poi fa prendere punti ai partiti della morte ai sostenitori della morte molti dei quali stanno prodigandosi in commenti assolutamente vuoti ehm noi dobbiamo proteggere la vita e la vita la si protegge in gruppo conoscendosi e formando una comunità ehm ho pubblicato sempre sul sito un interessante video ehm di un discorso sulla comunità di comunità dobbiamo continuare a parlare ehm va bene ho ho detto molto si sta discutendo molto sono cinquanta minuti ehm sulla base dei commenti ragionevoli che ci sono ehm magari porteremo avanti una discussione successiva se volete informazioni lasciate altri commenti io vedrò di darvi le fonti parlando di numeri e andando diretto al punto non girandoci attorno cioè ehm l'introduzione iniziale in cui si parlava di Vangelo serviva a spiegare ai non cattolici di perché noi cattolici ehm diamo così tanta importanza a determinati argomenti e questo non è il motivo per cui i non cattolici li devono dare serviva per spiegare perché siamo stati mossi cosa ci ha triggerato come si dice adesso su internet trigger è il ehm come si dice il grilletto quello che fa sparare la pistola ecco a noi leggere il Vangelo ci triggera però poi ragioniamo da laici cioè guardiamo i numeri guardiamo le situazioni perché i i bambini con i disabili si salvano nella realtà ehm si salvano studiando cos'è una legge ehm non utilizzando l'uccisione di un disabile per far passare una legge sul testamento biologico cioè ehm le arance per far passare una legge sulle scarpe tennis ehm andiamo a fondo noi con la verità difenderemo la gente e difenderemo la vita quindi vi auguro una buonanotte a tutti e ci sentiamo mercoledì prossimo ehm vi chiedo di cliccare mi piace e condividi in modo tale che questo video gira ehm saluto Attila che è un mio amico ed è un deficiente come lo ero io alla sua età come ero l'età che ho rimasto no vabbè in realtà è un amico e mi dispiace che abbia scherzato su questo argomento perché ehm io lo trovo ehm importante e grave è un argomento personale è un argomento che mi tocca che mi tocca personalmente come secondo me tocca chiunque lo capisca perché non ci puoi ridere sopra ragazzi buonanotte apps e